In manette sono finite tre cittadine di origine colombiana ed un esperto di informatica della provincia di Asti. Quest'ultimo, un 51enne di Canelli, aveva il compito dietro pagamento di curare gli annunci erotici sul web. I militari della nor di Sala Consilina si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi delle compagnie di Roma Montesacro, Luino nel Varesotto, Bibbiena nell'Aretino, Torino, Oltredora, Pisa e Canelli. Inoltre sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari nei comuni di Sala Consilina, Cassinasco nell'Astigiano, a Ponte Tresa in provincia di Varese, a Mariano Comenzia, Pisa, Roma, Bibbiena, Torino e Luino. L'indagine, iniziata nel novembre del 2010, ha permesso di individuare nel centro cittadino di Sala Consilina un'abitazione adibita ad Alcova, dove venivano offerte prestazioni sessuali a pagamento pubblicizzate anche su alcuni siti internet. Nel corso delle perquisizioni è stata sequestrata una copiosa documentazione ed è stato anche disposto il sequestro preventivo di quattro siti web dove venivano pubblicizzati gli incontri. Due delle donne arrestate si trovavano nell'abitazione di Sala Consilina, mentre la terza è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Romo Montesacro, l'uomo invece da quelli di Canelli. Gli arrestati sono stati tradotti nelle case circondariali competenti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina.